La maggioranza non riesce a venirne a capo anche ieri sera. Niente numeri per approvare il piano economico finanziario e il provvedimento sulle tariffe tari. Da settimane i progreco cercano di arrivare alla conclusione di un sentiero che si sta rivelando fin troppo ostico alla votazione chiamata dal presidente di turno, Salvatore Scerra. Solo 11 consiglieri hanno dato riscontro. L'opposizione, ad eccezione della grillina, Virginia Farrugge, dello stesso Scerra, presidente di turno, ha nuovamente lasciato l'aula. È accaduto dopo la discussione sui contenuti del piano economico finanziario. Il consigliere di Liberamente, Vincenzo Casciana, ha ribadito la sua posizione. Secondo Casciana, infatti, senza numeri, il principio del buon governo suggerisce di chiudere definitivamente l'esperienza amministrativa. Sullo stesso fronte nessuno ha fatto passare sotto silenzio le parole dure del sindaco greco che la scorsa settimana ha tuonato verso il drappello politicamente avverso, tacciandolo di non essere responsabile. L'avvocato l'ha confermato durante il suo intervento. Anche ieri sera il capogruppo di un'altra gera, Giuseppe Morselli, e quello di Forza Italia, Rosario Tranito, hanno richiamato l'opposizione spiegando che anche loro dovere amministrare. Hanno ribadito che i consiglieri di opposizione, a loro volta, sono stati eletti proprio per amministrare. La maggioranza ha rimarcato che il PEF non è un atto politico. Il leghista Emanuele Alabiso, oltre a chiedere nuove indicazioni sui contenuti del piano economico-finanziario, ha sottolineato che la maggioranza non c'è più. Più di qualche assenza, infatti, si è notata proprio tra i banchi dei pro greco, con numeri che non assicurano affatto l'autosufficienza. Il presidente della commissione bilancio, Prepaolo Grisanti, ha ufficializzato il parere negativo. Nonostante l'assessore Terenzano Di Stefano, il sindaco e il dirigente Alberto De Petro abbiano più volte ribadito che il PEF è da ritenersi come una presa d'atto. L'esponente di una buona idea, Rosario Faraci, ha premuto su un altro tasto la necessità di un dibattito sul PEF, ma soprattutto sui servizi che in città non vengono effettuati, nonostante siano previsti nel capitolato d'appalto. In aula si tornerà questa sera, ma la maggioranza dovrà arrivare ad almeno 10 consiglieri. Solo in questo modo potrà approvare gli atti senza contare sull'opposizione.